Allora, nome? Claudia. Soprannome? Clay. Età? 32 anni. Provenienza? Primini. Tre aggettivi per definire i ragazzi del gruppo? Allora, insieme. Un misto di entusiasmo, anarchia e voglia di fare in fretta. Le prime tre cose che mi vengono. Hai mai fumato una canna? Sì. Hai mai provato altre sostanze stupefacenti? No. Cosa ti ha portato a fare operatore? È stata un'occasione legata allo studio che ho fatto, vedere un'esperienza che volevo provare. Mi ero detta che non sarei andato oltre i tre anni, invece sono esattamente in questo mese il doppio, sei anni. Sei contenta del tuo lavoro? Sì. Tre aggettivi per definirti? Sì. Testarda, maldestra e puntigliosa, una volta anche troppo. Cosa cambieresti del gruppo? Del gruppo di adesso? Sì. Niente? Niente perché ogni gruppo lascia qualcosa? Allora, definisci ognuno di noi del gruppo. Attuale. Patti, 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 patti. Patti potrebbe essere una buonissima educatrice. Mimmo? Vedo questo in lei. Mimmo è un personaggio per cui a volte si vede che deve avere un comportamento perché appunto gli altri si aspettano da lui un determinato comportamento. Per cui a volte questo va a suo sfavore perché si vede bene che ci sono volte in cui lì non vorrebbe avere quella reazione. Romeo? Romeo è una piacevole sorpresa. Una piacevole sorpresa perché poi è una di quelle persone che ha molte risorse però ha quasi paura di viverle a pieno. Cosimo? Cosimo è un grande. Il mio Cosimo è un grande. Cosimo è uno dei miei primissimi utenti. È un po' un oracolo, Cosimo. Anche quando non comprendi quello che lui dice però sai che ha detto qualcosa su cui vale la pena riflettere. Michele? Michele è un ritorno. Non saprei definirlo altrimenti. Sono sei anni che ce l'ho tra i piedi, Michele. Camilla... Beh, si è definita bene lei. Estrema. Estrema nei suoi comportamenti. Questo sì. Quanto sei stata onesta nel rispondere alle domande? Onestissima. Ah, il tuo film preferito. Il film preferito? Ne ho vari. Tempo fa ero non ci resta che piangere di Benigni. Poi se vogliamo andare un po' sul sofisticato, diciamo che come periodo mi piace un po' il neorealismo italiano. Canto una canzone che ti piace? No, ma che amore. Una canzone che mi piace? Mi viene in mente una di Caposela. Mi piacciono tutte, potete dire, quelle di Caposela. Ma questa sera ho una perché la stavamo cantando al ritorno dalle cinema. E dovevo cantarla. E dovevo cantarla. Come sventere un uglies. Poi non me la ricordo più. Facci una smorcia. Una risata. Non mi si dà un uglies. Dove che mi... E' il mio cittico da cantina. Grazie, Luvio. Paolo! Che avevano costruito nella sabbia e per la sabbia, forse per avere ancora a tiro l'onda. Tutta questa clandestinità dove che è nata, questo andare a letto presto, quando è iniziata. Che potevamo andarcene a ragazze o giù a Lido, affanculo questa serietà, questa lealtà. Tutta questa impresa, poi il sabato all'Ipera a far la spesa.